A Torino in piazza Vittorio Veneto sono ripresi regolarmente i mercati di campagna amica nella fase post lockdown come sempre con il distanziamento sociale, l'utilizzo di mascherine in caso di eventuali assembramenti ma con una certa nuova normalità. Domenica scorsa a Torino in piazza Vittorio Veneto si è svolto il primo mercato di campagna amica post lockdown. Pur mantenendo le regole dettate per contrastare la diffusione del coronavirus i mercati si svolgono ora senza il contingentamento della presenza dei consumatori che devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Comandato il primo mercato post lockdown nella città della Mola Antonegliana lo racconta Roberto Grassi responsabile di campagna amica Torino. Il mercato di campagna amica di piazza Vittorio nasce dopo l'esperienza più che positiva che c'è stata con il 150esimo anniversario dell'unità d'Italia nel 2011. Da allora i mercati di campagna amica nella città di Torino si sono sempre evoluti e l'ultimo in cui siamo approdati con i prodotti del territorio è proprio su questa piazza. Dopo il duro periodo del lockdown finalmente questo è il primo mercato in cui cerchiamo di ritornare alla normalità. Che cosa vuol dire? Sempre nel rispetto delle regole quindi del distanziamento personale minimo, dell'uso delle mascherine, dei guanti, tutti quelli che sono i dispositivi necessari per proteggere i produttori e gli acquirenti è la prima volta in cui non abbiamo più necessità di contingentare gli ingressi quindi la popolazione può autonomamente entrare al mercato senza dover rispettare dei numeri particolari di presenza all'interno dell'area ma siamo comunque presenti come col diretti per garantire il rispetto di quella che è la norma. A seguire la testimonianza di due produttori agricoli in vendita diretta che spiegano come hanno vissuto sinora l'emergenza coronavirus e come si sono organizzati per poter servire i consumatori. In questo periodo difficile di coronavirus abbiamo gestito l'azienda come potevamo e abbiamo cercato di portare in città i nostri prodotti facendo consegne a domicilio. Per fortuna sono riniziati i mercati in sicurezza e quindi siamo riusciti a ritornare dalle persone. È stato un periodo molto difficile, abbiamo lavorato veramente tantissimo però non ci siamo mai arresi e siamo tornati e siamo venuti qua da voi. In questo periodo le persone si sono appoggiate a noi tantissimo, ci hanno chiesto tutto quello che avevamo quindi i prodotti tutti nel loro insieme chiaramente hanno capito la stagionalità del prodotto, si sono rivolti a noi per il servizio che fornivamo a casa ma anche soprattutto per la qualità del prodotto. In questo periodo di emergenza ci siamo un po' dovuti riorganizzare nel senso che abbiamo cambiato un po' la gestione del discorso vendita, ci siamo concentrati più sulle consegne a domicilio in quanto la gente richiedeva appunto, dovendo stare a casa, un servizio a domicilio più vicino a loro, alla loro esigenza e quindi tramite appunto le consegne due volte a settimana abbiamo servito le due valli a noi vicine, Val Chisone e Val Pellice col Pinerolese e siamo anche venuti su Torino a fare parecchie consegne, per fortuna la richiesta è stata elevata e siamo riusciti a tenere buono a questo servizio.